Penultimo appuntamento di regular season domenica per la Tezianis Verona sul campo di Udine. Coach, l'hai definita una sfida affascinante quella che si giocherà in Friuli? Sì, affascinante innanzitutto per l'obiettivo, perché abbiamo l'occasione per blindare la nostra posizione classifica. Affascinante perché giochiamo in un contesto storico, di grande presenza, che è un fattore. Affascinante perché giochiamo contro una squadra di livello e quindi diciamo che obiettivo, contesto e qualità della squadra avversaria rendono questo viaggio verso Udine intrigante, affascinante e sicuramente con grandi motivazioni. Ecco, Udine è una squadra sicuramente molto fisica. Che partita disegna la Tezianis Verona da un punto di vista offensivo ma anche difensivo? A livello offensivo dobbiamo avere la capacità di leggere le due modalità differenti tra loro, la presenza distinta tra Pellegrino che tende a contenere e Mortellaro che invece è molto più aggressivo. Da queste letture partono sicuramente delle reazioni necessariamente differenti da parte nostra e quindi a livello offensivo, al di là di questa lettura, è necessario che si muova la palla perché è una squadra di taglia e quindi è necessario muovere la palla, farli muovere nella loro zona difensiva per sfruttare il nostro dinamismo sicuramente migliore per battere la loro taglia che sicuramente invece potrebbe essere vincente. A livello difensivo riconosciamo tre opzioni certe, quali Simpson, Amici e Powell, ma allo stesso tempo una squadra che seguendo le caratteristiche individuali propongono differenti situazioni e quindi è una partita test che necessariamente ci deve far trovare pronti contro tante situazioni, contro più di un giocatore. Grazie.